Sono a Milano, tricche tricche tracche, son cantante si, so, 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 sono a Milano, tricche tricche tricche, cicche cicche tracche Fà, fa, fa, o no, buongiorno, buongiorno a sta cazzo che si fa? e questo fa fai il pirata con questo occhio? si fai il pirata di che? dei coesioni eh? cioè io vado a Milano immagino ci vediamo domani fate il caffè da cantante come? da cantante che cosa? caffè da cantante che cosa è? cioè da cantante no normale normale? ok grazie sono cantante cioè ci dovrei avere il caffè da cantante boh vabbè poi dici che a Milano sono avanti sì sono cantante sì quindi questa sarà la mia o no? chi lo sa chi lo sa il verde c'è il verde c'è il rumore pure c'è il rumore? eh che c'hai messo? è stata lì fa la frittura sta macchina dai che c'ho fame sarà questa o no? sarà questa o no la macchina? boh chi lo sa grande Mirko va bene fratello quanto mi fai penare? io eh? eh volevo prendere sta macchina tu no eh stiamo a pranzo tu no eh comunque Mirko mi ha dato carta bianca mi ha detto scegli la macchina che vuoi per quest'estate fino alla Crazy Run e potevo scegliere mille macchine veramente ho scelto una macchina e l'ho fatta esatto con quello che avevo in testa e con quello che ho in testa ma chiaramente se ce l'ho in testa è un conto avercela in testa è un conto realizzarla quindi veramente io l'ho vista solo in foto ma mi ha realizzato una macchina cioè ragazzi immaginate quello che può avere in testa Carletto Life parte dalla mia testa ma grazie a lui che l'ha messa l'ha fatta diventare realtà quindi ragazzi aspettatevi una macchina pazzesca fuori da ogni regola fuori da ogni chiaramente è una macchina normale di base però ci abbiamo messo un po' le roba eh un po' tanta Mirko eh buongiorno bene si siamo arrivati eccoci yes con Mirko siamo qui da Parisi Dakar d'ora in poi per vedere la macchina e tutto quanto dovete seguirmi su questo profilo io sono molto emozionato ma seguitemi venditore di macchine eccolo il grande Ale ragazzi gli interni una roba fantascienza ma non neanche se la fin neanche se boh non so come l'hai pensata sta macchina vuol dire ragazzi un po' malato malato vero devi imparare una foto una foto una foto una foto della fiacca se non ti ribecco il quante ribeccavo mai più neanche se ci dovevano appuntamento davvero una foto del parautiliero una foto di fila ti si sono addrizzati i capelli ma che pennello è single? mamma mia mister maglietta bagnata piacere di conoscere ti sei pazzesco bloccare il traffico per favore velocità velocità rapita 1 2 3 1 2 3 ragazzine occhia la gonna siete fantastiche ragazze un saluto un bacione bellissime che devi benedica che devi benedica mi ha fatto venire fa l'aperitivo e bevi la coca cola ho dovuto convincere si lo so ci hai messo molto a convincervi eh parecchio pensata così cioè guardate che lavoro sta macchina guarda nonna maria quanto è preoccupata oh Oh!